Sono morti insieme, probabilmente nel disperato tentativo di salvarsi a vicenda, uccisi dalle esalazioni provenienti dalla cisterna nella quale erano caduti. Tragedia alla periferia di Gioia del Colle, in provincia di Bari, dove ieri sera due persone sono decedute in una cantina mentre stavano pulendo una cisterna contenente del vino. Le vittime sono Giovanni e Filippo Colapinto, padre e figlio di 81 e 47 anni. L'incidente è avvenuto nella cantina storica del Cardinale, in via De Nicola, poco fuori il centro abitato. Secondo le prime ricostruzioni, il figlio era impegnato in alcune operazioni di pulizia della cisterna con all'interno circa un litro e mezzo di vino, quando ci sarebbe accidentalmente finito dentro. A quel punto il padre, nel tentativo di salvarlo, sarebbe caduto a sua volta. Fatali per i due uomini, sono state le forti esalazioni provenienti dalla cisterna stessa. Una volta resisi conto dell'accaduto, i familiari hanno chiesto aiuto ai carabinieri. Inutile l'arrivo del 118, quando gli operatori sanitari sono intervenuti, per padre e figlio non c'era già più nulla da fare. I corpi senza vita dei due sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono state estremamente complesse. Sul posto, oltre a loro e ai militari, che hanno effettuato i primi rilievi, anche il pubblico ministero di turno della procura di Bari, Lanfranco Marazzia, e il medico legale, Francesco Vinci.